I borghi autentici d'Italia e il futuro del turismo dell'introterra nel mezzogiorno. Torna con questo tema l'undicesima edizione di Le Idee per Accadia, promosso da Marco e Franco Salvatore in collaborazione con il Comune di Accadia, l'Associazione Nazionale Borghi Autentici d'Italia e il Sabato delle Idee. Il tema di quest'anno è stato scelto perché i centri storici e borghi d'arte sono uno straordinario patrimonio di molti comuni del mezzogiorno che può rappresentare un'occasione di sviluppo economico non sempre sfruttata a dovere. Anche nelle città più piccole, laddove si è percorso a questa strada di valorizzazione, si è creato benessere e soprattutto occupazione per i giovani professionisti delle zone dell'introterra. Ma ascoltiamo l'idiatore del forum, Marco Salvatore. Ritengo che manifestazioni come quelle di oggi siano fondamentali per lo sviluppo dei borghi antichi. Accadia è tra le cittadine che partecipa ai borghi antichi, ha bisogno naturalmente che questo borgo venga rivattilizzato e sicuramente lo sarò grazie alle iniziative che partono e che sono già partite da tempo per il borgo di questa piccola cittadina. Nel corso dell'incontro sono state premiate due giovani del Comune di Accadia con la borsa lavoro Domenico Gaetano e Giuliana Salvatore, per favorire la possibilità di seguire percorsi di alta formazione universitaria o professionale. Inoltre è stato presentato il progetto per il recupero del rione fossi del centro storico di Accadia. Università Sororsola Benincase e Comuni di Accadia infine si impegneranno per dei progetti di studio e di ricerca sul centro storico del paese. Un modello, quello del recupero dei luoghi, che il Sororsola sta applicando anche alla sua storica sede napolitana e il cui significato va ben oltre una semplice riqualificazione. Sentiamo a tal proposito il rettore Lucio D'Alessandro. Attraverso questo modello di rilettura dei luoghi, di recupero dei luoghi, è come se proponessimo un modello di convivenza all'interno delle città. Naturalmente gli antichi borghi, borghi come questo dove in questo momento ci troviamo, di Accadia, ma tanti altri, sono dei luoghi straordinari da poter recuperare, veri e propri scrigni da riportare alla vita perché sono in grado di recuperare non solo stilemi architettonici ma anche modelli comportamentali e perché no anche abitudini, usi, profumi, gastronomie e quant'altro.